Elia Stevanato è il titolare della Stevanato Prodotti e Lavori Speciali. Ci racconta di cosa si occupa in 5 minuti. La nostra azienda è un'azienda che è nata nel 1979, dove andava principalmente a bloccare l'umidità di risalita. Dieci anni fa l'ho presa io questa azienda, che è un'azienda di famiglia. Ad oggi siamo in 40 persone all'interno dell'azienda, e l'abbiamo sviluppata con delle nuove idee, dei lavori speciali, proprio come si chiama l'azienda. Noi ci occupiamo principalmente di infiltrazioni d'acqua adesso, negli interrati, nelle gallerie, nei sottopassi che ci sono in tutti i paesi. In Italia c'è il taglio cemento armato, quindi tutte le demolizioni speciali, senza evitazioni, con filo, con disco, diamantato. E da qualche anno a questa parte siamo arrivati nel mondo dei giunti stradali. Eravamo già nel mondo dei giunti aeroportuali, siamo arrivati nel mondo dei giunti stradali. Abbiamo incrementato la nostra piccola famiglia, diciamo, perché per noi è una piccola famiglia, perché tutti i dipendenti che noi abbiamo sono tutti quanti molto importanti, perché ogni persona è un piccolo tassello di questa piccola famiglia, diciamo. Quindi vi occupate sia di lavori di edilizia civile, diciamo, che industriale o comunque appalti ai lavori pubblici, spaziati un po' in tutti i strade. Sia che del civile che anche dell'industriale, ovviamente, strade, gallerie. Facciamo anche l'idrodemolizione, non so se qualcuno sa bene che cos'è, andiamo a idrodemolizione armato con acqua. Abbiamo questi robot che a grandi pressioni distribuono il cemento armato per uno spessore da un minimo di 3 centimetri e arrivi ai 30-40 centimetri tranquillamente. Quindi dei lavori speciali anche con tecnologie innovative e tecnologie speciali. Cerchiamo sempre di rinnovarsi, diciamo, con robot e con qualcosa di nuovo all'interno dell'azienda. In che zona vi trovate? Dove siete e dove operate? Allora, noi siamo in provincia di Venezia, a Salzano, come sede principale, abbiamo un'altra sede a Napoli perché è più di 10 anni che lavoriamo all'interno della metropolitana di Napoli, quindi abbiamo una sede anche là e lavoriamo a nord e sud Italia. Lavoriamo in Sicilia, stiamo facendo la Siracusa Gela, siamo a Napoli, come dicevo, siamo sparsi in giro per tutta l'Italia con il mondo giunti stradali. Quindi operate un po' in tutta Italia, però so che siete molto attenti e molto radicati nel territorio con delle sponsorizzazioni particolari. Noi siamo un official sponsor, ci hanno definito top sponsor quest'anno del calcio Venezia. Diciamo, è una bella avventura anche quella. Già, immagino. Quest'anno vanno anche bene, stanno andando su, speriamo che vanno anche in Serie A magari. E chissà che demoliscano esatto le barriere che dividono il Venezia dalla Serie A e riescono a salire di categoria. Ho curiosato un po' fra i social, vedo che hai un rapporto molto speciale con i tuoi collaboratori. Noi puntiamo molto sui collaboratori, perché diciamo che qualsiasi azienda può comprare un macchinario, per noi invece noi siamo forti perché abbiamo delle persone speciali, come è un'azienda speciale. Persone speciali che fanno appunto lavori speciali. Per loro ogni nuovo cantiere è una sfida personale, forse, e penso e lo spero che sia personale anche per loro, perché vedo ogni giorno quando entrano nel cantiere lo ragionano già da qualche giorno prima, quando gli dico guardate che abbiamo questo cantiere, dobbiamo affrontare in determinato modo. Per loro è una sfida personale. Si prendono a cuore il lavoro e quindi ci mettono l'anima come è giusto che sia in qualsiasi tipo di attività. La nostra differenza è quella, forse. Se qualcuno volesse mettersi in contatto con voi, quali riferimenti ci hanno? Andate pure sul sito www.stevanato.com e vedete si mettono in contatto con noi. Se hanno anche esperienza nell'edilizia possono mandare tranquillamente un curriculum. Elia, io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao, grazie.